Naturalmente per tutte e tre le tracce. Negli anni precedenti abbiamo spesso visto dei lavori anche validi che purtroppo o mancavano addirittura di nota metodologica e sapete che questo è un criterio per escludere dalla graduatoria finale i lavori oppure avevano una nota metodologica diciamo piuttosto fragile. Tenete conto che questo è un elemento di valutazione a maggior ragione nel momento in cui i prodotti che possono essere presentati sono dei prodotti diciamo di durata limitata ridotta perché evidentemente devono essere comunque valutate la coerenza tra quello che è il prodotto anche di breve durata nel tempo e il progetto assolutamente fondamentale. Quindi un suggerimento che facciamo nostro questo di Daniele che vale naturalmente per tutti. Allora passiamo adesso alla seconda traccia. Ci sarà appunto la relazione di Nicoletta Fasano dell'Istituto di Asti che ha lavorato insieme a Luciana Zeruolo dell'Istituto di Alessandria sul tema numero due. Monumenti, 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 statue, iscrizioni, eredità suomode del passato. Te Nicoletta. Allora condivido lo schermo, vediamo se mi date un riscontro. Sì. Ok. Sì. Perfetto. Allora, ci siamo riferiti con il nostro titolo a un movimento di protesta nato negli Stati Uniti ormai qualche anno fa, 2011, 2012, 2013. Continuato poi a momenti di maggiore manifestazioni e anche di gesti e di scelte eclatanti anche come le fotografie vi vogliono far vedere. E che si è poi diffuso in molti paesi d'Europa e la fotografia del monumento di Indro Montanelli imbrattato è recente. Noi abbiamo voluto proprio partire dal presente, partire dall'attualità per fare un ragionamento su quello che sono i luoghi della storia, i luoghi della memoria e i segni che la storia lascia sui territori e sui paesaggi. Abbiamo anche voluto ricordare Rodari perché nel titolo abbiamo messo una sua considerazione che riprenderò successivamente a proposito dei luoghi del fascismo o dei segni che il fascismo ha lasciato sul nostro territorio nazionale. E' chiaro che lavorare su un tema di questo genere significa lavorare con la complessità perché i segni, il territorio, i paesaggi ci restituiscono una stratificazione della storia ma anche una stratificazione delle memorie e una stratificazione anche delle scelte che il potere fa di utilizzare determinati segni a indicare delle storie su determinati luoghi. E' una materia assolutamente multidisciplinare, un tema assolutamente multidisciplinare e assolutamente trasversale tra le materie scolastiche. Per questo ci spiace molto che questi temi che sono estremamente complessi, quelli di quest'anno, siano relegati in un periodo molto breve perché potevano assolutamente rappresentare dei percorsi di educazione civica veramente molto interessanti, che potevano restituire dei risultati interessanti. Quindi abbiamo a che fare con delle parole chiave, territorio, paesaggio, luogo di memoria, che non è luogo di storia. Le due cose sono assolutamente connesse ma molto molto diverse. Vado velocemente, poi vi darò indicazione ancora di un paio di siti a cui fare riferimento, che sono molto ricchi di materiale. Io ho messo delle foto assolutamente che vogliono rappresentare, i segni di un territorio che la storia lascia. In questo caso la storia dell'agricoltura, della trasformazione del paesaggio a causa delle attività dell'uomo. E' un'immagine, chiedo scusa per la citazione della mia città, ma il territorio urbano segnato dal fascismo. In questo caso la casa Littoria, la grande M di Mussolini, che domina una delle piazze centrali della città. Il territorio segnato dalle attività economiche dell'uomo, che è ben diverso dal concetto, da un'altra parola chiave, paesaggio, che è la nostra percezione del territorio e quindi mette in moto tutto quello che riguarda la nostra soggettività. È il nostro sguardo che percepisce il territorio e lo rielabora in base al nostro bagaglio di esperienze, alla nostra memoria, alla nostra soggettività. Quindi due parole chiave estrettamente connesse, ma assolutamente con le loro diversità anche concettuali. E l'altra parola chiave, i segni sul territorio vengono lasciati e anche quando sono dei ruderi, anche quando sono i cosiddetti vuoti a perdere, sono comunque una testimonianza di una storia, di una storia di insediamento, di una storia di attività umana, di una storia di cultura materiale, di credenze religiose, di cultura immateriale, che su quel territorio è passato e ha caratterizzato quel determinato territorio. La nostra storia, il nostro territorio è pieno di segni della storia. Io qua ho messo emblematicamente solo alcuni dei segni. Questo è un paesaggio segnato dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, che è una guerra che ha ferito il paesaggio e lo ha segnato a cent'anni di distanza, così profondamente da lasciare segni ancora evidenti oggi. E questo invece è un altro tipo di segno lasciato sul territorio, un segno istituzionalizzato, un segno del potere che celebra la guerra, che celebra i caduti di quella guerra e li ricorda. Oppure altri segni decisamente molto più evidenti, come il vittoriano a Roma, che perde un segno così grande della storia sul territorio urbano, che man mano perde anche la sua simbologia e il suo significato iniziale per acquistarne un altro. Ai molti è noto come l'altare della patria, quindi come il monumento dedicato al milite ignoto e questo piccolo saccello centrale sotto la statua della Dea Roma ha dato nel corso degli anni e dei decenni il nome all'intero monumento, facendo dimenticare che quello era il monumento dedicato al primo re dell'Italia e quindi la risignificazione dei monumenti nel corso della storia, il cambiamento del loro significato o addirittura lo smarrimento, la dimenticanza del loro significato iniziale per acquisirne un altro. E poi ci sono i luoghi della storia in cui la storia non è più visibile. Questo è Piazzale Loreto a Milano, un luogo di importanza fondamentale, anche dal punto di vista simbolico, estremamente importante, che ha perso fisicamente i riferimenti, le tracce del proprio passato, duplice, non dimentichiamolo mai, perché Piazzale Loreto è un luogo sia di eccidio, di partigiani, di antifascisti, in agosto del 44, sia poi di fine di una dittatura. Ecco, questi segni sono persi e rimangono però nella cultura e nella memoria molto forti. Noi abbiamo citato nella nostra bibliografia un elenco di articoli usciti proprio in occasione dei vari momenti in cui periodicamente arrivavano le notizie di eliminazione di qualche monumento, di abbattimento di qualche monumento, soprattutto negli Stati Uniti, legato al passato coloniale degli Stati Uniti. Abbiamo voluto anche mettere un articolo di Ruth Ben-Ghiat che è uscito sull'Internazionale nel 2017, perché ci impone una riflessione sui monumenti e sulle tracce del passato fascista rimasti in Italia. A questo proposito è uno di quei materiali di cui vi dicevo prima da aggiungere alla bibliografia, perché la bibliografia l'abbiamo stesa per il settembre e questi materiali arrivano dopo, un seminario che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha organizzato nel corso dell'ottobre-novembre 2020, proprio sul tema i luoghi del fascismo e sulla risignificazione di questi luoghi. È materiale che trovate online assolutamente disponibile, con tutta una serie anche di sollecitazioni, di stimoli molto interessanti. E per ritornare alla frase di Rodari presente nel titolo del proposto al progetto di storia contemporanea, i luoghi del fascismo, che sono quelli più evidenti, perché sono quelli davvero che segnano capillarmente come quasi un'epidemia di monumentalistica tutto il territorio nazionale, questo è il Foro Italico a Roma, dove sono presentissimi ancora saluti romani, la cultura artistica fascista, la simbologia fascista, eccetera. Ed è parte integrante della red urbano. E allora Gianni Rodari dice, ovviamente non si possono abbattere tutti i segni urbanistici del fascismo, ma studiarli, contestualizzarli e magari completarli con frasi o aggiunte che lì gli diano un altro significato, un significato ovviamente di studio e di contestualizzazione nella storia. Questo è un famoso obelisco che apre l'accesso al Foro Italico, su cui c'è ancora la scritta Mussoliniana, ci sono slogane e simboli del fascismo, ecco questo è un luogo che può anche essere visitato virtualmente dai ragazzi, su cui si può fare un lavoro molto interessante, perché il dibattito sull'uso di questo luogo è molto vivace e si è acutizzato nel corso di una serie di iniziative realizzate dal CONI, proprio nella sala conferenze del Foro Italico, dove giganteggia un mosaico con Mussolini al centro. Ma sono luoghi di storia che segnano i nostri territori anche, non solo i monumenti, ma anche i nomi delle città, i nomi delle piazze. individuare il processo di assegnazione del nome di una via è fare un lavoro di educazione civica molto interessante, perché non è mai una scelta neutrale il dare il nome a una via, è il risultato di un processo politico e istituzionale che si svolge all'interno di commissioni, all'interno dei consigli comunali, dei luoghi del potere. Non è assolutamente mai scontato, così come quello di cambiare il nome di una via o di una piazza o il porre una lapide sulla facciata di un palazzo. Spesso è una memoria contesa, come nel caso di Milano, le due lapidi dedicate a Giuseppe Pinelli. Ecco, quello che noi vogliamo che emerga dal titolo e dal lavoro che bisognerà fare sulla traccia numero due è una riflessione sul fatto dell'abbattimento delle statue, e non è una novità, i regimi e le storie ci insegnano che il rovesciamento dei monumenti è un atto di desacralizzazione del potere, è il rovesciamento di una narrazione storica anche, è il rovesciamento di una narrazione istituzionalizzata della storia, è il riappropriarsi di una determinata storia o di determinate storie, e rovesciare il monumento significa rovesciare un simbolo di un potere che non viene più riconosciuto. Ecco, il senso del rovesciamento di questo potere è l'imporsi alcuni interrogativi, cancellare la storia, cancellare la memoria in questo modo, oppure come dice David Bidussa nell'articolo, in uno degli articoli che abbiamo citato in bibliografia, se rimane un gesto fine a se stesso non ha un grande significato, ma se apre invece una fase di conoscenza, se apre invece una rilettura, una rinarrazione della storia, allora quel gesto di rottura acquista un significato decisamente più profondo. Mi fermerei qui con un'unica citazione, il nostro lavoro può consentire di fare un viaggio virtuale nei luoghi di memoria, nei luoghi della storia, e quindi può essere fatto anche online, perché i luoghi sono a disposizione anche sul web. Qui siamo sul binario 21, il luogo dedicato alla deportazione degli ebrei milanesi dalla stazione centrale di Milano. Un ragionamento su questa stazione fascista che conserva ancora intatti i simboli del fascismo oggi e un ragionamento sulla parola indifferenza che ha voluto Liviana Segre che fosse scolpita così bene a ricordare l'indifferenza con cui si è svolta la storia della persecuzione anti-ebraica nella storia d'Italia, del fascismo italiano. Ecco, quello è un ottimo, secondo noi, potrebbe essere un ottimo studio di caso. Ce ne sono moltissimi, a partire dalle stesse vie che i ragazzi percorrono, fortunatamente adesso rientrando a scuola e andando a scuola, oppure facendo lo struscio il sabato o la domenica, oppure nei luoghi di aggregazione. Spesso i monumenti sono luoghi aggregativi di cui non conosciamo assolutamente la storia e non conosciamo assolutamente il significato. Il recupero di quella storia, di quei luoghi così ben conosciuti può senz'altro rientrare in quel percorso di educazione civica di cui parlavo prima.